Questo è il momento in cui faremo esplodere una coccola 10.000 followers sotto il cielo Eccolo, eccolo Io sono Barbuto, ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovo video Il video di oggi sarà un video molto breve Durerà precisamente 4 minuti e 20 Ma faremo un sacco di cose Non faremo solo quella che c'è scritta nel titolo Fatemi sapere se questo nuovo genere di video vi possa piacere Se preferite video lunghi Appunto non perdiamoci in chiacchiere Iniziamo ad andare a fare le robe Perché abbiamo un sacco di cose da fare Eccolo, eccolo Allora c'è un trend che sta andando molto di moda in America Ovvero prendere una coca cola o un angura E cercare di farla esplodere con degli elastici Ovviamente ci serve una coca cola E degli elastici Direi che ne abbiamo abbastanza No, non sono tutti qui Ne ho presi altri Ecco qui gli altri Siamo pieni di gli elastici ragazzi Mamma mia Sono tantissimi Allora siamo qui in mezza natura Ci siamo recati in un bosco Sentite i rumori Qua è stato avvistato un Bigfoot Qualche settimana fa Io non ci credo a sta cagata Cioè un Bigfoot ragazzi Comunque siamo qua Abbiamo portato tutta l'attrezzatura Per far esplodere questa coca cola Però ci apprestiamo Perfetto Allora siamo qua Mi leggo i capelli Qua è pieno di moscerini ragazzi Sento moscerini ovunque C'è della gente Ci sono i nostri elastici Allora siamo pronti ragazzi Questo è il momento In cui faremo esplodere una coca cola Oh Dai Non sta per esplodere Mi ha avventato Oddio Oddio La vedo già allargarsi un po' Io sento passi Non è che è il Bigfoot Esploderò oggi a coca cola Allora mi metto un paio di occhiali da sole Perché non vorrei che il tappo partisse Ok ragazzi si va col terzo pacchetto di elastici Non so se esplode tutto in un colpo Oppure mi avvisa tipo Ragazzi mi raccomando Io sono un professionista Non fatelo a casa Madonna pensate ad avere tutti questi elastici al polso Il mio polso sarebbe già esploso Perché è la bottiglia di coca cola no? Occhio eh Occhio perché potrebbe No per favore Giuseppe Occhio Sono tantissimi ragazzi Andate qua Magari scuotendola un po' Ragazzi è possibile? Abbiamo quasi finito anche il terzo sacchetto di elastici Comunque questi video solo sul canale di barbuto Sempre piaciuto È incredibile Cosa vi regala il vostro barbuto Che emozione Io spero che esploda Perché poi a toglierli tutti questi elastici La vedo dura Oh mio dio ragazzi Ma non esplodi più Stiamo per finire addirittura Il quattro pacchetto di elastici Ragazzi ci vuole una forza È brutta Barbuto Sempre forzuto qua Quarto pacchetto finito Si parte col quinto Oddio Non puntare verso di me Oh mio dio Mi è super resistente questa bottiglia Abbiamo praticamente finito anche il quinto pacchetto Quanti ne avremmo messi? Il sesto pacchetto di elastici Sta per esplode ragazzi Io ve lo dico Oddio Avevo Coca Cola ovunque Questa è la bottiglia Potrebbe diventare un bel soprammobile Si Ok ovviamente non la lasceremo qui Adesso la butteremo da qualche parte Però È bellissimo A una certa non esce più la Coca Cola Perché Ha fatto tappo Ecco il risultato È diventata ricidissima Vedi così non si stringe Prova Ma che caro Questo è un esperimento ragazzi Della scientifica Chiamatemi Se volete vi insegno un trucco Per far diventare una bottiglia Indistruttibile Indistruttibile Queste treccine verranno bene O verranno male secondo voi Oh Comunque sei arrivato a 10.000 Abbiamo anche vinto Incredibile Questa è per i 10.000 Siamo arrivati a 10.000 Si 10.000 10.000 10.000 10.000 Prima grande Traguarda anche qui 10.000 Siete i primi 10.000 Che seguono Quel barbutto è sempre piaciuto Wow Che serata ragazzi Che serata Abbiamo fatto Treccine 10.000 Due vittorie Grazie ragazzi 10.000 10.000 22.000 Grazie.